Sifu, una domanda, ci troviamo nella condizione di distanza tale che io possa attaccare sia di pugno che di gomito, come prendo questa decisione di fare una scelta o l'altra? Allora, istintivamente io devo attaccare di pugni, perché la cosa che è più versatile ed è quella più naturale, perché il gomito è un attacco tecnico, non è un attacco naturale, quindi io cercherò sempre di venire con i miei pugni, stabilito che abbiamo già un contatto. Che cosa succede? Io voglio attaccare di pugno, ma l'altro essendo più forte di me me lo impedisce e allora a questo punto io posso decidere di venire con il gomito. Il gomito è un attacco molto corto, quindi diciamo che per tirare una gomitata e renderla efficace io dovrei avere la collaborazione dell'altra mano. Direttamente posso ottenere anche questo, però non ho fatto niente di conclusivo, quindi se io tu mi impedisci il pugno e devo dire il gomito io preferirei afferrare e tirare col gomito, questo sia a sinistra che a destra, questo però deve succedere quando io sto interno, se sto esterno e mi viene impedito raramente posso fare una cosa del genere, diciamo di qua così, raramente posso fare una cosa del genere, ma è troppo tecnica, troppo innaturale e allora se io dall'esterno mi viene impedito il pugno lo avvasso e tiro, io lo vado ad abbassare, mentre se sto interno e l'altro me lo para mi porta più a fare la gomitata. Ma ripeto, i pugni sono più istintivi, sono molto spesso più efficaci e la gomitata nasce quando il pugno non può colpire. Non è una scelta tecnica, io sono costretto a tirare la gomitata e preferibilmente ci vuole sempre la collaborazione dell'altra mano, altrimenti mi sfugge. Però ripeto, non deve essere tecnico, deve essere scorrevole, perché quando è troppo tecnico io posso anche partire con la gomitata e l'altro mi piace pure la gomitata e allora io devo cambiare. Questa velocità di cambiamento, io lo specializzo nel CISO, ma gli attacchi sono sempre quelli più istintivi. Più sono tecnici, più non funzionano. Il pugno ha tutte e tutte le direzioni. La gomitata insomma si fa alla cortissima distanza.